Magnifico Rettore, autorità presenti, cari colleghe, cari colleghi, carissimi studenti. È un vero onore, un piacere poter parlare oggi all'apertura del 155esimo anno accademico dell'università in cui proprio in questo mese ho trascorso 20 anni della mia vita dall'ingresso come studente fino all'entrata in ruolo come professore. E vi voglio parlare della protezione dei cittadini, delle aziende, del nostro paese all'interno del futuro iperconnesso che il professor San Giovanni Vincentelli ha così elegantemente già descritto. La nostra disciplina, la disciplina dell'informatica, ha un'origine ben precisa, una nascita ben precisa. Nacque il giorno in cui la matematica dovette scendere in guerra. Si trattava del 1942, il continente europeo era sotto la dominazione nazifascista, c'era un'unica nazione ancora indipendente, il Regno Unito, e il Regno Unito dipendeva criticamente dai trasporti via mare per poter sopravvivere alla guerra. Questo faceva sì che per gli alleati uno dei problemi principali fosse attraversare l'Atlantico pattugliato dai sottomarini tedeschi. I tedeschi trasmettevano i piani di attacco a questi sottomarini usando un codice cifrato, una macchina cosiddetta Enigma che vedete nella fotografia, e il Regno Unito corse ai ripari, corse ai ripari con un'arma, e l'arma era un giovane che si chiamava Alan Turing, il fondatore della nostra disciplina, un matematico, che insieme ai suoi colleghi del gruppo di ricerca di Bletchley Park, disegnò una macchina che si chiamava The Bomb, in grado di decifrare i codici dei nazisti. E questa invenzione è riconosciuta, molti di voi si ricorderanno Alan Turing con il volto di Benedict Cumberbatch in The Imitation Game, questa invenzione contribuì in modo significativo alla vittoria alleata nel secondo conflitto mondiale in Europa. Questo ci ricorda di una cosa, che se il fisico Oppenheimer nelle sue memorie scrisse che l'esplosione della bomba atomica nel deserto di Los Alamos aveva privato la fisica della sua innocenza, l'informatica, l'innocenza non l'ha mai avuta, perché è nata come una disciplina dove c'è un elemento avversariale, come diciamo noi in gergo, ovvero sia dove ci sono a volte persone che cercano di proteggere dei dati e persone che cercano di violare questi dati. Nel futuro iperconnesso che il professor San Giovanni Vincentelli ha così ben descritto, abbiamo detto che ci saranno automobili non più di proprietà, ma che verranno a prenderci alla fine dei nostri impegni e ci porteranno in un altro impegno basandosi sulla nostra agenda già condivisa, oppure basandosi sulle rilevazioni fatte dal nostro cellulare e delle nostre abitudini precedenti. Ci saranno robot collaborativi che quindi dovranno integrare i dati di sensori e i dati che provengono da internet, analizzarli con tecnica di intelligenza artificiale, poter lavorare con gli esseri umani. La nostra vita sarà connessa tramite tutte quelle applicazioni che già oggi vediamo nei social network, ma che continueranno a crescere di importanza e che già oggi non sono dei semplici giochi, ma sono il posto dove molti di noi esplicano alcune delle attività più importanti della propria vita, la socializzazione, il discorso politico e sociale si esplica oggi sui social network. Nel futuro iperconnesso i sistemi cyberfisici di cui si parlava poc'anzi saranno tutti intorno a noi e si connetteranno tra di loro comunicando su internet per fornirci dei servizi sempre più efficienti e più efficaci. Ovviamente all'interno di questo scenario futuro c'è un elemento da non considerare, cioè che già nello stato presente delle cose sempre di più in futuro, ciò che è connesso a volte è troppo connesso. L'immagine che vedete alle mie spalle è una mappa presa da un portale di ricerca che si chiama Shodan e questa mappa, ogni puntino, che sono tantissimi, rappresenta un impianto industriale che è raggiungibile adesso, oggi, tramite internet. Ora voi capite che se un impianto industriale è esposto tramite internet, ciò che un tempo poteva richiedere, per esempio, ad un gruppo terroristico oppure ad un esercito di arrivare fisicamente al perimetro dell'impianto per poterlo aggredire non è più necessario. Al giorno d'oggi, da questa sala, una persona dotata di computer può contattare tutti quei puntini che sono la linfa vitale della nostra società. Quindi la protezione di questi elementi è fondamentale. È fondamentale e già vediamo sorgere una serie di minazze che insistono contro i cittadini, contro le imprese e contro gli stati. Nelle notizie di stampa abbiamo visto e sentito parlare dei cosiddetti ransomware, virus, impropriamente detti, che prendono in ostaggio le informazioni delle persone e prendono in ostaggio le informazioni delle persone per richiedere un riscatto. Ci sono aggressori che invece non mirano ai soldi, ma mirano ad altre possibilità. Molti siti di stati, di organizzazioni, sono stati compromessi da aggressori dimostratori. A volte attivisti, a volte consociati, con organizzazioni terroristiche o con nazioni coinvolte in un conflitto. L'informatico Snowden alcuni anni fa si è rivelato l'estensione con cui le agenzie di informazione, i servizi segreti di Mezzomondo curano e guardano le nostre attività in rete. Le nostre attività in rete che adesso sono il luogo principale del discorso politico. E quindi abbiamo visto l'utilizzo dei social network all'interno di campagne organizzate per cambiare o per modificare sottilmente i risultati elettorali. Si pensi all'impatto che sta ancora venendo valutato di queste campagne di disinformazione vuoi sul voto americano del 2016, vuoi sulla campagna della Brexit. Tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che questo mondo futuro del cyberspazio, come viene chiamato questa metafora di tutto ciò che è connesso intorno a noi in una rete informativa è teatro anche purtroppo di operazioni militari o aggressive portate da stati, portate da organismi non statali, a volte portate da singole persone. I costi e i rischi per il sistema paese sono elevati. Secondo una stima il cybercrime, solo il crimine quindi non gli attacchi veri e propri portati da stati costa quasi 400 miliardi di dollari solo nei primi 24 paesi del mondo per prodotto interno lordo. 400 miliardi di dollari è mal contato una metà del prodotto interno lordo italiano. è una cifra significativa per un anno. Questo crea la continua crescita dei budget di sicurezza per esempio per le nazioni e anche per converso crea e stimola la nascita di un mercato di soluzioni che cercano di coprire queste esigenze. Il Politecnico di Milano non ha cominciato a fare ricerca di cyber security adesso. Qualcuno prima tra i miei colleghi scherzosamente mi diceva vabbè è un argomento di moda. È vero adesso è un argomento di moda ma noi abbiamo cominciato a fare ricerca in questo settore nel 2008 con il progetto europeo Wombat che nel 2008, dieci anni fa, si preoccupava di creare sensori per rilevare le attività degli aggressori nel cyberspazio. Abbiamo fatto ricerca con fondi forniti dalla Nato, abbiamo fatto ricerca con fondi forniti dalla comunità europea, abbiamo fatto ricerca con fondi forniti dallo Stato italiano, i progetti Tenace e Feis, abbiamo fatto ricerca con fondi forniti dall'industria, ad esempio nel progetto Filiera Sicura che è sponsorizzato da Cisco e da Finmeccanica. In totale abbiamo passato dieci anni di ricerca in cui abbiamo raccolto 2 milioni e 300 mila euro di finanziamento competitivo in gran parte da parte dell'Unione Europea, abbiamo formato sette studenti di dottorato, i fiori di cui parlava prima il professor San Giovanni Vincentelli, e oltre 100 studenti di laurea specialistica. Vorrei utilizzare il resto di questo intervento per darvi un'idea di quali sono alcune delle attività di ricerca che facciamo. Una di queste è nel mondo della cosiddetta industria 4.0, dei sistemi cyberfisici di controllo industriale, di cui il professor San Giovanni Vincentelli parlava poco fa. In particolare ci siamo preoccupati della sicurezza dei robot. I robot vengono utilizzati al giorno d'oggi in molte lavorazioni critiche, aerospazio, automotive, in tutte le filiere industriali italiane, e noi abbiamo analizzato come i robot possono essere compromessi. Innanzitutto in questo filmato noi abbiamo programmato questo braccio robotico per effettuare un'operazione di saldatura, solo che invece di un saldatore gli abbiamo dato una penna, invece di un pezzo di metallo un iPad, e vedrete dopo perché ci serve per una dimostrazione. La saldatura è un'operazione dove il robot deve passare tante volte sulla stessa precisissima posizione in modo tale da unire i pezzi di metallo. Questo robot lo sta facendo, passa tante volte sullo stesso punto e la sua precisione millimetrica è il motivo per cui i robot vengono utilizzati nelle industrie critiche. Ora però noi eseguiamo un attacco che voi non vedrete, perché ovviamente come tutti gli aggressori noi siamo invisibili, siamo dei fantasmi all'interno della rete, e questo robot eseguirà di nuovo la sua operazione di saldatura. Non sembra che sia successo niente, se il nostro operatore guarda il programma e il robot sta facendo ancora quello che dovrebbe fare, ma in realtà se noi guardiamo l'effetto, cioè quello che il robot sta effettivamente facendo, non sta più coprendo la saldatura, ma la sua mano sta oscillando. Questa oscillazione di circa due millimetri viene chiamata micro difetto e in molte lavorazioni industriali è più che sufficiente per creare una forte ripercussione. Ad esempio qui vediamo un difetto di due millimetri nella costruzione di una lama per un'elica di un drone e questo è l'effetto sul drone. Nessun drone è stato colpito per fare questa dimostrazione. L'abbiamo recuperato, sta bene, non vi preoccupate. Però potete immaginare quali siano gli effetti di questo tipo di interazioni su per esempio dei robot che stanno producendo medicinali per uso umano, parti per l'avionica. Questa ricerca è stata la prima ricerca di questo tipo fatta al mondo, è stata pubblicata oltre che sulle conferenze, come diceva prima il professor San Giovanni Vincentelli, bisogna che la ricerca abbia anche un impatto nell'industria, infatti è stata fatta in collaborazione con Trend Micro, che è una delle aziende più importanti del mondo in questo settore, ed è stata presentata in una conferenza che si chiama Black Hat a Las Vegas, dove 17.000 professionisti della sicurezza tutti gli anni si recano per sentire le ultime novità nel settore della security. Ed è poi comparsa su numerose riviste, da quelle scientifiche dell'IEEE, alla stampa nazionale e internazionale, fino ad arrivare sull'MIT Technology Review. In un altro settore, completamente differente, più vicino forse al singolo cittadino, ci occupiamo anche di proteggere cittadini e imprese dai cosiddetti ransomware, lo dicevamo prima, sono quei codici maligni che cercano di prendere in ostaggio i nostri dati, cifrandoli e chiedendo un riscatto. Avete sentito sicuramente il nome di uno di questi, WannaCry, che è diventato famoso nelle cronache attorno a marzo, per avere disabilitato il sistema sanitario inglese, oltre che una serie di altre entità nel mondo, infatti ha fatto circa 4 miliardi di dollari di danni, mal contati. Abbiamo prodotto uno strumento che si chiama ShieldFS, che è fatto per proteggere l'utente che inavvertitamente dovesse cliccare su uno di questi malware. Questo è un utente che ha i suoi file di lavoro, e a un certo punto, inavvertitamente, schiaccia ed esegue un campione, questo è proprio un campione di WannaCry, lo stesso malware che ha infettato mezzo mondo. Il malware inizia a funzionare sul disco, e senza che l'utente se ne renda conto, noi qui facciamo vedere tante cose di cui l'utente non si renderebbe conto, il malware è partito e lo vedete lì in cima alla lista dei programmi che sta macinando letteralmente il disco dell'utente, cifrandolo e nascondendo i dati, per poi richiedere un pagamento di un riscatto per liberarli. E questi qui sono i dati dell'utente che stanno venendo cifrati man mano. Fortunatamente su questa macchina è installato ShieldFS, che di nuovo sarebbe invisibile, ve lo rendiamo visibile con una serie di operazioni, giusto per non lasciare un filmato vuoto per qualche secondo, ShieldFS sta ragionando su quello che sta succedendo sulla macchina, guarda questi file che vengono cifrati, si rende conto che non è una cosa normale, e appena è sicuro che l'operazione non sia voluta dall'utente, termina il programma maligno che si stava propagando, e inizia senza che l'utente veda nulla, l'unica cosa che succede è che il programma non funziona più, e inizia una procedura di recupero dei dati dell'utente. Quindi trasparentemente all'utente, quei file che sono stati modificati da WannaCry e cifrati, vengono riportati in chiaro. Morale della favola, il nostro utente che aveva malauguratamente cliccato, invece di trovarsi con tutta la sua vita cifrata, e con la necessità di dover dare 500 dollari a un truffatore, si trova con il computer protetto e non si rende neanche conto dello scampato pericolo. Questo processo è talmente efficiente e efficace che ha dato origine a uno dei brevetti industriali di cui si parlava poc'anzi, che sta venendo ora contrattato e acquisito da una importante società di security. Siccome questi malfattori cercano di monetizzare, cioè di ottenere i soldi tramite l'utilizzo, per esempio, delle criptovalute, avrete sentito parlare di Bitcoin, Bitcoin è una criptovaluta che consente un certo livello di anonimato ed è una criptovaluta che viene utilizzata da moltissime applicazioni legali e, per esempio, nel settore del fintech, area dove Milano ha un suo distretto molto importante nella scena europea. Quindi noi non possiamo scartarli a priori, dobbiamo trovare un modo per analizzare queste transazioni virtuali e essere in grado di ricostruire il percorso dei soldi, follo o demoni, come dicono gli investigatori, per trovare i malfattori. E tramite queste tecniche che stiamo elaborando è possibile, per esempio, associare le chiavi, quindi gli pseudonimi virtuali, con le persone che effettivamente le stanno utilizzando. Queste sono informazioni di primario utteresse sia per le forze dell'ordine che, per esempio, per le agenzie di investigazione. La ricerca, si diceva, non deve essere fine a se stessa, deve essere in parallelo con l'impresa. Infatti la nostra ricerca è supportata generosamente da imprese, oltre a Leonardo e Cisco, che ho menzionato poc'anzi, da Trend Micro e da Bivitec. Ma, oltre ad avere un rapporto con l'impresa nel senso di ricevere committenza dall'impresa, la ricerca deve anche sviluppare dell'impresa. E dalla nostra ricerca, negli anni sono nate varie imprese, nessuna ancora di successo quanto Cadence o Synopsys. Secure Network, una delle prime aziende in Italia a occuparsi di security assessment, adesso un leader assoluto del settore. Banksealer, un'azienda neonata che si occupa di protezione dei conti correnti bancari dalle frodi. Rivenge, un'altra azienda nata poche settimane fa, in realtà, che si occupa dell'analisi di programmi per trovare vulnerabilità e riuscire a correggerle anche se non si è in possesso del codice sorgente del programma. Un problema di estrema importanza proprio nel mondo dei sistemi cyberfisici. Le nostre ricerche presenti si stanno focalizzando sul mondo dell'automotive, proprio perché, come si diceva prima, il mondo dell'automotive è ormai costruito sull'uso dell'informatica. Le nostre auto sono delle reti di computer che accidentalmente hanno quattro ruote e un motore. Quindi devono essere difese non solo come auto, con lucchetto, ma anche come reti di computer. Ci stiamo occupando della protezione di impianti industriali in collaborazione con alcune delle più grandi realtà del nostro Paese e, in generale, di tutto quello che ricade sotto il paradigma della cosiddetta Internet of Things. Penso che ci siano motivi solidi per continuare a investire nella ricerca e nello sviluppo. Sono già stati accennati. Io ne menziono tre relativi solo al mio settore. Un primo motivo è quello che, ovviamente, la sicurezza è un fattore abilitante, come si dice, per queste tecnologie. I cittadini devono potersi fidare che queste tecnologie funzionino nel modo corretto e non siano aggredibili da altri. Se non si fidano, queste tecnologie non avranno presa. Il secondo motivo è che solo mediante la ricerca di alta qualità è possibile creare un programma di formazione di alta qualità e formare i tecnici che servono per avere la capacità manageriale e tecnologica di gestire lo sviluppo e la trasformazione delle nostre aziende del sistema paese. E la terza necessità è perché tramite lo sviluppo e la ricerca scientifica in questo e in altri settori è possibile non solo soddisfare le richieste delle aziende del nostro territorio, delle aziende internazionali, ma anche creare aziende, creare nuova occupazione e possibilmente contribuire al rilancio di questo nostro paese. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. 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 Grazie.